ciao a tutte e ciao a tutti nuovo video pulizie della casa come state spero bene allora questo video è un po perché la double poke non faceva altri video e quindi ho deciso finalmente di ricontinuare a fare questi video sistemiamo un po il letto insieme poi chiacchieriamo aperto allora suono così perché è un bel po che ho troppo caldo quindi vabbè dettagli ma niente di che comunque sono un po missione casalinga ovvero miss casalinga con dei capelli che per carità di dio ma vabbè prometto che nella prossima videoclip li farò più decenti ovvero che vabbè tra l'altro non dovete vedere solo a me ma dovete vedere quello che faccio quindi lasciamo vedere quello che ho detto niente a topo Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.